IPU! Chi fermerà la musica? Quelli che non si sbagliano Eh beh, certo, certo Sono uomini soli Per la sete d'avventura Stefano Dolazio e Red Canzano sono state le prime persone che nella mia vita ho intervistato Per me le cose sono due Lagrime mie o lagrime due Le cose sono due Parla di una crisi che abbiamo superato E sbaglio ma tu promettimi che Potrà sempre ritornare da te Non sono nuda, questo vestito non è trasparente ma è un disegno del mio corpo Sono riso quando ho detto che io ho il cuore dentro al petto ma ora no, non so quale inseguirò Non lasciar nessuno Non lasciarmi qui Era dei tempi di Bugo e Morgan che non viveva Qui con me ci sono Antonella, Anna, Cristina e Ambra Che sono la presidente e alcune delle operatrici dell'associazione Dire Associazione che aiuta migliaia di donne ogni anno vittima di violenza da parte degli uomini Ma c'è chi non lo farà Tutti accettano la verità Fatta, bellissimi Bellissima Ti ho creato il tuo primo profilo personale Vuoi sapere come l'ho chiamato? Eh Amadeus sono io 368.000 follower Nel giro di 5 minuti Io sto male, 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 male Se non so dove sei se mi pensi Ogni tanto c'è un altro che sfiora i tuoi sensi E dimmi se c'è stato amore tra quelle parole E poi dammi duemila minuti e se duemila ore